Ultime settimane Rauti con il turbo inserito su quella corsia non ti fermi più? No, l'obiettivo è quello di continuare così, di cercare di portare ancora il mio gioco a livello superiore per cercare appunto di poter vincere e arrivare ai playoff carichi e pronti. Che partita ti aspetti ad Olbia domani? Mi aspetto una grossa partita, una partita molto importante perché loro sono una squadra forte, hanno vinto adesso a Modena e noi lo sappiamo quindi il nostro compito è quello di andare lì comunque per cercare i tre punti. Pescara strafavorito però perché è vero che l'Olbia ha vinto a Modena però a Modena il Modena ha dominato contro l'Olbia invece il Pescara aveva dominato contro il Modena. Sì, noi stiamo bene, noi pensiamo appunto alla partita di domani cercando di portare i tre punti con il nostro gioco sappiamo che possiamo farlo perché come abbiamo dimostrato possiamo mettere in difficoltà chiunque quindi chiaramente noi andiamo lì per vincere. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo se questo nuovo, questo ruolo che ti sta dando continuità ovvero esterno offensivo a sinistra a questo punto lo accendiamo al ruolo definitivo. Sì, no, io sono contento che sono riuscito a imparare appunto più cose quest'anno e devo ringraziare il mister perché appunto io all'inizio mi sono sentito sempre una punta invece ho imparato mettendomi in gioco che posso fare anche altro.